ok così piccolo ecco il mio pokemon oh che sfortuna da dove viene questo ti ho trovato ecco te qui nessun problema ho pikachu non è giusto ho vinto io lo vedremo scurva scelgo te allora tirerò fuori gli artigli fai vedere a quel gatto chi è il capo corri cosa sta succedendo qui una stanza segreta quante scatole ehi questo è il mio posto vattene chiudi il becco puzzone io vi butto fuori che puzza ho il diodorante per ambienti come usate presenterò un reclamo io alla precedenza oh gattino e se facessi una vera casetta per te oh sì svegliati mia o abbiamo del lavoro da fare ehi anche io voglio una casetta sono troppo pigro per favore come posso dire di no bene ecco il progetto ti piace sei serio bene e adesso mi piace una casa carotosa quindi quello è il tuo modello il nostro è molto meglio non sono stata io o io sono stato io scusa gattino non volevo ti fa male scorbanni dobbiamo pulire mi piacerebbe molto fatti da parte è tutto pronto è tutto pulito ottimo lavoro grazie mille per prima cosa dobbiamo creare una struttura ma di cosa aspetta ecco ho del legname ottimo ma ora ci servono gli attrezzi come questi grazie è proprio quello che ci serve tieni qui devo segare cosa scorbanni hai ragione a chi serve la sega bel lavoro wow e tu facile tieni qua i miei artigli faranno tutto il lavoro duro vuoi segarli con una forghetta ecco scusa il mio super artiglio questo è ancora peggio mi dispiace come stai mia o il mio povero artiglio come possiamo unire questi pezzi grazie servono questi sì certo ma ci serve un abitatore grazie ancora ma che bel lavoro scorbanni è proprio quello che ci serve dove hai preso gli attrezzi conosco un posto ci sono buona fortuna mia o siamo stati derubati qualcuno mi vede ah beccato fermati sei tu quello che sta rubando i nostri attrezzi il mio bello aspetto cos'è successo micio non chiederlo nemmeno tieni prendi un po di latte io prendo il mio zaino c'è tutto quello che mi serve tienilo dritto casey cresci erbetta cresci cresci erbetta cresci cresci erbetta cresci ottimo lavoro scorbanni erba fresca che bel gattino oh sì dovrei piantare delle carote cresci 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 mio dolce carotina ehi dammi un po di vernice perché? ok migliorerò il tempo perfettamente soleggiato oh eccola possiamo iniziare a raccogliere ahi una scheggia perfetta ecco una copertura di carote wow un rivestimento tutto al naturale grazie questa casa è così ecologica scorbanni scorbanni sei lì un grande ehi cos'è questo? ehi grazie scorbanni bello batti il cinque miau sei qui dentro? bravo gattino hai fatto una porticina ed ecco la vernice ed ecco la vernice prendiamo tutta la casa super colorata un grande artiglio oh oh la mia zampa che schifo via da me vernice ehi è venuta piuttosto bene sono un grande artista aspetta lo sistemo io questa nuvola sta rovinando la vista ecco ora è tua oh oh aiuto scorbanni tieni duro torna sulla terra grazie per avermi preso nascondiamo questa nuvola in casa è così accogliente wow cosa succede se è elettrica contemporane ho paura io odio la pioggia c'è brutto tempo poverini ecco prendete una coperta aspetta ops miau sei tutto sporco mi dispiace tanto questa sarà la casetta più accogliente di sempre oh adoro questo posto dove posso collegare queste luci oh c'è la corrente no non c'è ho un'idea aspetta qui miau oh oh non pensarci nemmeno le leggi della fisica non mi deludono mai da qua il mio gelato ora abbiamo un recinto non mi da più il gelato la giornata mi sorride miau il mio prezioso gattino cos'è qui? ciao ragazzi volete vedere un trucco di magia? siamo i tuoi nuovi fiori ora balliamo dove sono le patatine? qualcuno ha visto le patatine? miau nessuno ha le patatine? no credo che andrò al negozio wow questo è miau ora appartieni a me fammi almeno finire il latte che shopping fortunato finalmente ho miau un latte grande per me per favore miau scendi ok torneo pokemon e ci sarà anche il mio pikachu devo partecipare pikachu concentrati devi vincere il mio pikachu vuoi delle patatine? sei pazzo? d'ora in poi è il mio pokemon bye bye non ci vorrà molto vediamo quali pokemon possiede avete idea di quali pokemon sia questo? scrivete le vostre risposte qui sotto pikachu cosa? pikachu smetti di mangiare cibo spazzatura vediamo quanti chili in più hai messo su non vedo nulla non va bene ti rimetterò in forma ti rimetterò in forma pokemon cicciottetto ti capisco tieni la corda per saltare e salta velocemente uno due uno due velocità fulminea sete solo acqua non mi piace latte fresco per i miei pokemon freschi ciao vuoi un po' di latte? oh lo adora? bravo gattino non avrei dovuto farlo torna nella pokeball gatto selvatico ok ho capito pikachu passi a fare un pisolino non puoi fai girare i pedali pikachu sono vicino alla vittoria cosa? perché la tv si aspetta? quel topo pigro sta sonnecchiando di nuovo oh mi è venuta un'idea tutto tornerà a funzionare in man che non si dica gnammi bravo pikachu iniziamo l'allenamento miau forza miau vai non ne ha voglia la gara è dietro l'angolo forza datti da fare non mi interessa ok e il latte? latte bravo miau affila gli artigli più forte ce l'hai fatta forza affilali tutti forza graffia tutti i muri miau ben fatto miau ti meriti un po' di latte oi individua l'obiettivo all'interno forza ben fatto miau controlliamo la tua reattività segui il laser tutti i gatti sono uguali ehi il mio laser si è rotto ben fatto miau sei pronto? puoi entrare nella pokeball? batti il cinque non mangiare troppo o diventerai cicciottello siamo pronti per un torneo devi allenarti tieni i manubri tieni i manubri datti una mossa Pikachu pika 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 è ora di lavorare sugli addominali forza Pikachu uno due uno due ok ora tieni la barra ci sei Pikachu perché ti sei fermato? spingi! spingi! schiafforte! dimostra che sei un pokemon bene Pikachu bene ok l'allenamento è finito il torneo di pokemon è iniziato io andrò con miau fagli vedere di cosa sei capace dai Butterfree allora vuoi combattere Phil? Butterfree? sono serio una farfalla contro un gatto aiuto non voglio morire giovane ti salverò troppo tardi ma dov'è? ora è mia vai pokemon chiamo Eevee hai chiuso Phil forza miau fai del tuo meglio schiacciala miau schiacciala miau il torneo è truccato? grande miau prendi un po' di latte tieni vai pokemon cosa? ancora? cosa devo fare? combattere credo ma che tipo di pokemon è? diglet dove è andato? niente pokemon niente lotta lo prendi tu? sono a posto puoi tenerlo sei finito testariccia il mio pokemon farà piazza pulita del tuo bla 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 combattiamo vola come una farfalla e fungi come pikachu ehi qual'è il problema? vai miau che diavolo è questo? ciao ho vinto pikachu svegliati mio amico giallo guarda cosa ho qui miau mi mangia piccolo rimettiti in sesto pikachu è così bello riaverti è ancora lì è ancora lì miau miau conosci pikachu? sono sicuro che andrete subito d'accordo pikachu sono un perfetto allenatore di pokemon fantastico oh non male phil ti va di giocare? andiamo il torneo pokemon è in pieno svolcimento phil si scontra con shawn che vincerà? shawn ha molte più carte povero phil cosa farà? fatemi concentrare ho un asso nella mia polvo guardate imparate pikachu schiaccialo oh no le mie carte ora appartiene tutto a me hai perso shawn mi è rimasta solo una carta è un elmo un elmo? sul serio? grazie hai migliorato il mio pokemon questo è la fine ben fatto pikachu sei il miglior pokemon che ci sia non avrai mai un pokemon come questo shawn mangiati il fegato ciao spiegato che bel gadget rotondo così unico come si apre? ok passiamo al piano b la mazza piano k la katana ma come ti apro? ehi! che maleducato! oh scusa! così morbido! guarda che belle orecchie! picca 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 cibo Pikachu! Pikachu non condivide il cibo mi piacerebbe uno spuntino ah ah sta arrivando wow oreo Cibo? Come faccio a trovare del cibo? Non c'è niente! Pikachu non può mangiare aria! Oh, capisco! La mia Pokéball! Oh no! È sparita! Pikachu! Dove sei? Pikachu! Oh no! Il mio piccolo Pikachu è sparito! Niente più lacrime! Ti troverò, mio amico giallo! Pikachu è scomparso! Pikachu! Preso dopo senza tetto! Aiuto! La protezione animali è al lavoro! Aiuto! No! Ti troverò io! Cosa c'è lì? Dovrò proteggermi! Cosa? È un nuovo Pokémon? Slowpoke! Wow! È Slowpoke! Due piselli in un baccello! Entra nella Pokéball, nuovo amico! Prendiamo altre verdure salutare! Non mi piace! Un pomodoro succoso da abbinare alle tue guance! No! Insalata? Patatine! Verdure fresche? Soda! Baglio degli snack! Per favore! No! Prendiamo del cibo sano! Salve! Aspetta! Chi ha messo tutti questi snack? Pikachu! No! Bene! Prendiamo tutto! Il cibo sano è comunque stupido! Slowpoke! Vieni fuori! Mi aiuteresti a trovare il mio Pikachu? Per favore! Sì! Ma certo! Slowpoke! Andiamo a cercarlo! Forza! Forza Slowpoke! Dobbiamo affiggere quanti più manifesti possibile! Cosa? Ti muovi come una lumaca in pensione! Svegliati Slowpoke! Svegliati Slowpoke! Dobbiamo trovare Pikachu! Ops! Scusami! È Jigglypuff! Ciao! Entra nella mia Pokéball! Mi piacerebbe! Quel Pokémon è mio! Allora facciamo una battaglia di Pokémon! Forza Jigglypuff! Vincerai! Stiamo per vedere chi è più forte! Il mio Slowpoke si sveglierà! Jigglypuff ha vinto! Ok! Puoi avere il mio Pokémon! A nessuno importa del dormiglione! Puoi tenertelo! È fantastico! Questo è il mio Pokémon! Jigglypuff! È ora di andare a casa? No! Sì! Slowpoke andiamo amico! Oh! Orecchie da Pikachu! Ti ho trovato! Una banana! Oh! Banana! I compiti sono la cosa peggiore che ci sia! Oh! Il mio Pokémon! Puoi aiutarmi con i compiti? Questa per te! E io giocherò ai videogame! Buona fortuna, Pikachu! Devo andare a lezione! Per fortuna il mio Pokémon ha fatto tutti i miei compiti! Cos'è questo? I miei compiti! Non è accettabile! Pensi che questo corso sia la scienza del dolce? Oh, Pikachu! Sei stato bocciato! Ora non scapperai, Jigglypuff! Fermati, Pokémon! Un Pokémon libero! Ho proprio bisogno di te, Jigglypuff! Giù le mani! Jigglypuff è tutto mio! Non per molto! Battaglia di Pokémon! Forza, Pikachu! Fagli vedere chi comanda! Vai, Jigglypuff! Piscotto! 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 Cosa stanno facendo? Piscotto! 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 Pokémon! La festa è finita! Un biscotto perfetto! E il mio caffè! Oh, ho finito i biscotti! Cos'è questo? Caffè! Altro caffè! Ti va di giocare, Sean? Badminton? Football? Frisbee? Copy playtime! Sean, sbrigati con i denti! Leggiamo dei libri? Ciao! Giochiamo! Forza! Il mio Pikachu! Tu! Hai rubato il mio Pokémon, Sean! Sei un cattivo! Aspetta! Puoi riavere il Pokémon se puoi! Combattiamo! Forza, Slowpoke! Fallo fuori! Oh, un pisolino! Che bella idea! Notte, notte! Sogni d'oro! Sono una coppia perfetta! Mio Pikachu! Ci siamo riuniti! Sean! D'ora in poi il Pokémon è tuo!